Io che parlo per quarto, io credo un po' nella cabala, sono il quarto e porta male. Perché mi avete messo a parlare per quarto? Allora ci ho pensato, vi dico, mi piacerebbe cambiare posto ma ormai non lo faccio. Però, allora, la visione che ho io è un pochino diversa. Io, qui ci sono tanti cari amici, con cui condividiamo storie, sogni, ipotesi, pensieri. Però la mia visione è un po' diversa. Io credo che oggi, più che mai, ci sia bisogno, cari amici, signori, belli, brutti, di opere. Ecco perché stanno cambiando le posizioni, stanno cambiando i contenuti. Allora, se è vero ed è vero che, per esempio, i Grand Hotel di un tempo erano caratterizzati da immagini legate a stilemi di linguaggio classici. E se è vero ed è vero che oggi l'orientamento lessicale si sta spostando su un frangente di contemporaneità, è altrettanto vero che la casa che entra nell'hotel, l'hotel che torna nella casa, sono storie che non fanno capire il problema. È come se un paziente venisse tenuto sotto sedativo senza capire qual è la causa del male. Dico, sta bene perché... ma non si sa qual è il male. Il problema grosso che io sto affrontando nel mio quotidiano fare, come altri miei amici stanno facendo, colleghi, è quello di disegnare, di definire dei campi segnici e di contenuto. Non vi parlo soltanto di bellezza, di estetica o di valore aggiunto in termini di percepito, ma di valore reale di una storia legata al mondo dell'hotelleria, ma non solo. Capace di portare nuovi valori etici, di bellezza, di straordinarietà, ma più che altro di contenuto. Io dico spesso che c'è bisogno, in questo mondaccio infame, dove tutto è brutto, è terrificante, tutto va nella direzione sbagliata, di opere. Opere, opere, ecco perché nell'ospedale ora succede qualcosa per far sì che questo luogo terroristico diventi altro, per illuminare il cuore di chi sta male. Ecco perché nascono come i funghi, le spa, e poi è sbagliato anche chiamarle spa, perché sono centri di benessere. Perché la gente sta male, ragazzi miei, la gente soffre, stiamo in un mondo, posso dire una parolaccia? Di merda. Dove tutto è trasversalmente negativo, perché la gente soffre, perché usciamo dalle case e non vediamo robe belle, vediamo robe terribili, legate a speculazioni edilizie degli anni 70. Ma non solo, perché continuiamo a vedere robe terribili ora, perché sono frutto di speculazioni immobiliari terribili. Io vi devo dire, con somma gioia dico questo, fino a ieri l'altro io ho fatto l'architetto degli interni e non vi dico l'arredatore, perché è una roba diversa. Negli ultimi quattro anni io sto affrontando temi di progettazione architettonica con somma gioia. Ora è un momento di crisi nera, noi siamo, come studio, sto prendendo a Milano ora, a Bogotà, a Shenzhen, in un momento di crescita iperbolica, perché anche chi non mi chiamava prima mi chiama adesso, come accade a colleghi miei, anche a alcuni che sono qui con noi oggi, per cosa? Per qualificare interventi e dargli un nuovo vigore, che dia un nuovo ossigeno commerciale. E allora anche questo come riflesso, il mondo sta cambiando, poi mi fermo, perché potrei tenervi qui fino a sera, ma non lo faccio per rispetto degli altri, dei colleghi, di Simona, del... Anche perché so che devi scappare, quindi almeno una seconda domanda vorrei che potessi fare. Allora, al volo e concludo, il discorso delle aziende, che è molto importante, è un discorso che meriterebbe un altro dibattito intero, perché signori miei, sta cambiando il mondo, ma anche della distribuzione, e qui non stiamo a parlare di quello, ma di hotellerie, ma questo sbilancerà una volta di più il mondo, la distribuzione sta cambiando, il mondo della domesticità andrà a sparire, così come è concepito, andrà a sparire e si trasformerà in altro. Se lo volete sapere, venitemi a trovare a Firenze, Milano, a Boccia... Simone mi ha disorientato, c'è una parlantina che non ricordo più neanche qual è la domanda, ma comunque, no, io volevo semplicemente solo dire che appunto la mia esperienza ha iniziato invece con esperienze legate all'abitazione e non all'hotellerie, ma devo dire che è stata un'esperienza fondamentale per creare i primi progetti alberghieri. Ultimamente trovo che invece l'esperienza che ho fatto negli alberghi è stata utilissima per i progetti che stiamo facendo, invece nel campo domestico, in effetti la cosa è un po' cambiata, anche se io credo che il sogno un po' di tutti da sempre è abitare in albergo come a casa e a casa sentirsi un po' come in albergo, questo probabilmente è un po' più difficile da ottenere. Ma ci stiamo avvicinando, cioè il senso del vivere bene, di sentirsi a proprio agio nell'ambiente domestico, è quello che uno vorrebbe in qualche maniera un po' ritrovarsi anche quando si trova in albergo. Ricordiamo che l'albergo alla fine è un po' una casa dove veramente uno dovrebbe ritrovarsi. Pensiamo che il letto dove dormiamo in albergo è il letto dove dormono migliaia di persone, probabilmente noi non faremo mai dormire nel nostro letto qualcun altro. Ecco, in albergo è quello che avviene, per cui è fondamentale affinché i vari albergatori e progettisti diano questa sensazione sempre anche di freschezza affinché il cliente si senta un po' a proprio agio. Per cui c'è questo interscambio tra casa e albergo che per me è continuo. Ecco, grazie. Buongiorno a tutti. Venitemi a trovare a Milano, a Londra, a Dubai, a Mosca eccetera e vi racconterò, vi farò vedere che il mondo invece è meraviglioso, il mondo è stupendo, è bellissimo, è tutto da scoprire e questo è il mio approccio al progetto. Il discorso di organizzare poi le considerazioni a livello di categorie è un approccio per capire un po' meglio quali sono i temi specifici, però il progetto è il progetto, non c'è un progetto dell'hotel, il progetto della casa, il progetto dell'ospedale eccetera eccetera. Io ritengo tutto quello che ho fatto modestamente, le ritengo che siano tutte opere, Simone, il progetto fatto bene è un'opera, poi dopo se uno pensa che la sua opera sia 180 milioni di quella di un altro va bene, però sono tutte opere, se sono pensate, affrontate con sincerità, se sono state indagate, se sono state sviluppate tutte le volte come se fosse una prima volta. Quindi il discorso di separare per categoria è soltanto un fatto di praticità. Ritengo che questo mondo dell'hoteleria, se vogliamo identificare un territorio circoscritto, è aperto a sperimentazioni di ogni tipo, è chiaro che però bisogna produrre qualcosa che poi funzioni, che possa dare, perché queste sono le macchine che devono funzionare, devono dare anche un reddito, un risultato a chi investe e nello stesso tempo deve dare una piacevolezza a chi abita questi ambienti per un tempo anche se vogliamo breve. Allora il tema qual è? Quello di mettere insieme le carte dal punto di vista del progetto, dall'architettura all'interno, al design. Io penso, ho sempre creduto in questa continuità di scala perché scopri sviluppando il progetto a queste diverse dimensioni, cose nuove, necessità, come si dice, emozioni nello sviluppare il progetto e queste poi distribuite in modo intelligente riescono a rendere l'opera. L'opera cosa vuol dire? Vuol dire un prodotto che dura nel tempo, un prodotto che è identificato, che è identificabile, che può avere una storia negli anni. Chiaramente se si parla di architettura sarà una storia che permane più a lungo, se l'opera è stata sviluppata con attenzione in rapporto al territorio, perché qui abbiamo un caso molto specifico, molto particolare sulla costa, quindi in rapporto con il luogo, con il territorio, la sua funzionalità, l'edificio permane più a lungo di un interior, gli oggetti forse rimangono più a lungo del progetto interior design perché sono oggetti autonomi rispetto alla loro collocazione. Quindi il panorama del progetto è vastissimo, ritengo che vado affrontato con grande apertura mentale, grande modesta, ma anche grande cultura. E qui forse la distinzione da fare è quella, le opere sono quelle che non raccontano Fandonia, sono cose che durano nel tempo, che sono convincenti e che non corrispondono solo ed esclusivamente a una prima copertina di rivista.